Stasera a Livorno e domani vi scaldate per aprile. Domani io apro a Pontedera. Grazie all'iniziativa che a Pontedera APIT ha sviluppato siamo riusciti a fare aprire circa 30 locali di Pontedera. Saranno tutti quanti aperti, tutti quanti pronti per servire, però è semplicemente un gesto simbolico in quanto noi rispettiamo le regole, non vogliamo assolutamente andare contro le regole, quindi i locali saranno aperti ma la gente al sedere non è possibile farla sedere. È semplicemente un segno che i locali ci sono, siamo vivi, le luci sono accese e chiediamo a questo governo di non farci spengere queste luci, non farci chiudere questi locali perché purtroppo con le misure restrittive, con la mancanza di risarcimento che il governo non ci ha ancora dato o con dei ristori miseri le attività saranno destinate a chiudere, è questione di tempo. Quindi appuntamento domani dopo le 18? Dopo le 18 dalle 19.30 alle 21.45 tutti i locali al Pontedera saranno aperti e quindi in segno di solidarietà vi aspettiamo almeno per un saluto e per avere la vostra vicinanza in questo momento di crisi economica. Quindi sarà un saluto della clientela? Sarà un saluto della clientela che però mentalmente e psicologicamente è di grande supporto in questo momento per noi imprenditori.